Una prima timida avvisaglia si era avuta ieri sera poco dopo le ore 21 e 30. Ma certamente chi si aspettava uno spettacolo di neve come quello già visto il 30 e 31 dicembre 2014 è rimasto deluso. Vediamo che cosa è successo ad Alcamo oggi a partire dalle prime ore di questa giornata del 6 gennaio. Sicuramente non altrettanto deluso è rimasto chi nella neve riscontra invece una fonte di problemi. Buongiorno da Alcamo, sono le 7 e 10 ed ecco i fiocchi di neve. Ecco sono adesso le ore 8, vediamo qualche fiocco nell'aria ma lungi dal quagliare. Beh può darsi che adesso si potrà verificare un leggero accumulo. Grazie. 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 Situazione alle ore 8 e 15. Questa la panoramica alle ore 8 e 25 Per il resto della giornata, almeno nella città di Alcamo, modestissimi fiocchi di neve senza accumulo sulle strade, montagne del Palermitano innevate, questo sì e fiocchi di neve anche pensato un po' a Castellammare proprio durante le premiazioni finali del torneo di calcio giovanile Costa Gaia vediamo un po' che cosa è accaduto Grazie